Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale. Oggi abbiamo un video un po' più soft, più leggendario che storico, anche se poi per carità ognuno trarà le sue conclusioni e dare i propri convincimenti personali. E volevo raccontarvi come nasce uno dei simboli più noti della città di Milano, il Biscione Visconteo. Tra l'altro appunto questo nome deriva dal fatto che prima ancora di essere lo stemma della città di Milano, questo era il simbolo araldico della famiglia Visconti, appunto questa dinastia che regnò su Milano in qualità di duchi appunto. Nel Medioevo i duchi di Milano erano i Visconti, dopo la metà del Quattrocento la dinastia si estingue e la mano passa agli Sforza. Ma questa è storia anche abbastanza nota comunque. E allora appunto però questo simbolo come nasce, qual è la sua origine, come è legato appunto alla famiglia Visconti, tra l'altro appunto un simbolo che molti di voi associeranno ad altre realtà che appunto sono legate alla città, al capologo Lombardo appunto, l'Alfa Romeo ad esempio, il Canale 5, l'Inter appunto, tutte queste varie realtà appunto legate a Milano appunto. che hanno fatto proprio questo simbolo della città. Allora dobbiamo tornare al Medioevo, un Medioevo non ben precisato ed ecco qua entriamo nell'ambito più leggendario che storico, comunque più o meno intorno al 1000. E dobbiamo spostarci un po' più a est di Milano, nella zona dell'attuale campagna rutigiana, dove era situato il lago Gerundo. Lago che tra l'altro questo si è esito realmente anche se non ne Medioevo appunto in epoca anteriore, intorno al 1000 era già bello che è prosciugato. E appunto un lago anche abbastanza grosso, più palude che altro, e questo lago appunto era secondo il racconto infestato da un drago terrificante, il drago Tarantasio. Tra l'altro appunto un drago che si narra fosse nato dalle carni putrescenti di Ezzelino III da Romano. Questo sì è un personaggio realmente esistito, però è molto controverso, molto celebre tra l'altro del Medioevo italiano. Era un nobile veneto, signore della marca trebigiana, vicario imperiale e capo dei ghibellini italiani. Quindi praticamente era il braccio destro del sacro romano imperatore tedesco in Italia appunto. Ricordiamo appunto queste sono cose che a scuola ormai si fanno e rifanno di continuo, uno dei leitmotiv guelfi, i ghibellini, il Medioevo italiano appunto, i guelfi erano quelli filopapisti, i ghibellini appunto erano i filo imperiali, e quindi appunto diciamo che questo Ezzelino, condottiero molto famoso, molto feroce, tanto da essere noto come Ezzelino il Terribile, era appunto il loro capo. Effettivamente morì nella zona dell'attuale Ludigiano e appunto fin qui la storia, dopo la leggetta, appunto ci dice che dalle sue carni nacque questo trago Tarantasio che appunto terrorizzava la campagna circostante, sterminava i passanti col suo alito velenoso e varie caratteristiche appunto simili. Divorava appunto i pescatori, chiunque si avventurasse vicino alla palude, finché il capostipite della famiglia Visconti, Eriberto pare appunto, Oddio, Eriberto Visconti è il reale capostipite del casato, poi chiaramente appunto nel racconto non è specificato, non è specificato il periodo e non è specificato appunto il nome di questo capostipite, però mettendo insieme le cose, Drago a parte, poi per carità io ribadisco, questo è un canale molto inclusivo, se uno crede ai draghi, liberissimo, non sarò io a dire di no, però appunto ecco, Drago a parte, la storia appunto ci dice di questo lago esistito, di questo Eriberto Visconti esistito appunto come capostipite, siamo intorno al mille, se di lui si parla, e appunto l'Ezzelino da Romano è esistito realmente. Come vi dicevo appunto, finalmente questo primo Visconti si avventura nella palude, uccide il Drago, con l'aiuto della Santa Fede ovviamente, un po' come San Giorgio, ecco il San Giorgio caro agli inglesi, e ai genovesi come dicevamo in un mio vecchio video, magari qualcuno ricorderà, e appunto da allora questo grande Drago con un uomo in bocca appunto, simbolo della sua ferocia, appunto campeggia sullo stemma araldico dei Visconti e da quando poi essi divennero prima signori e poi duchi di Milano, appunto campeggia anche sullo stemma della città. E quindi appunto ecco la nascita di questo simbolo del Biscione Visconteo. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, come sempre vi raccomando se gli argomenti video vi interessano appunto di lasciare un like, iscrivervi al canale, vi raccomando di dare un'occhiata anche alla nuova pagina Instagram che è nata recentemente, per il momento stiamo ancora un po' ingranando, sto più caldo caricando vecchi video, però appunto presto sarà ben operative, quindi mi raccomando di tenervi aggiornati e vi do appuntamento al prossimo video, vi auguro una buona serata e ciao, a presto.